controlli anti covid della polizia sul lungomare pesarese chiusi due locali le celebrazioni per il 77esimo anniversario della liberazione di pesaro dal 10 al 12 settembre torna la fiera di san nicola oltre 50 eventi e tante novità a pano arriva il brodetto fest una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo dei controlli effettuati dalla polizia nell'area del lungomare pesarese verifiche incentrate sull'osservanza da parte delle attività delle misure anti covid e del divieto di vendita di alcolici ai minori presso un locale situato in viale trieste dove era in corso un evento di intrattenimento musicale gli agenti hanno riscontrato un assembramento di giovani intenti a ballare nonostante l'attività ricreativa sia vietata dalle normative in vigore ai responsabili del locale è stato contestato il mancato rispetto dei protocolli regionali nazionali e l'attività è stata chiusa per tre giorni i controlli della polizia hanno inoltre permesso di verificare che in un secondo locale situato sempre nella zona del lungomare erano state servite bevande alcoliche a sei minorenni ai quali non era stato chiesto alcun documento da parte del titolare in questo caso oltre alle conseguenze di carattere amministrativo e giudiziario per il titolare il questore di pesaro urbino ha emesso un provvedimento di chiusura dell'attività per un periodo di 30 giorni la polizia ha comunicato che i controlli in questione proseguiranno anche nelle prossime giornate e si sono svolte nel pomeriggio di ieri le celebrazioni per il 77esimo anniversario della liberazione di pesaro le immagini e il racconto dei diversi momenti di ricordo li vediamo in questo primo servizio 77 anni fa grazie ai soldati polacchi delle truppe alleate e ai partigiani della brigata maiella pesaro veniva liberata dall'esercito tedesco in ritirata durante la seconda guerra mondiale per ricordare l'anniversario di una data fondamentale per l'intera città si sono svolte nel pomeriggio di ieri le consuete celebrazioni dislocate sul perimetro del centro storico pesarese celebrazioni partite con la deposizione delle corone al monumento alla resistenza in piazza palcone borsellino e che si sono poi spostate alla cappella votiva di sant'ubaldo in largo mamiani e al sacrario dei caduti per la libertà in piazzale collenuccio dove oltre ai saluti e agli interventi delle autorità civili militari e religiose presenti si è poi svolto un momento di preghiera in memoria dei caduti diversamente da quanto annunciato assente per problemi personali la senatrice a vita liliana segre nel suo discorso il sindaco di pesaro matteo ricci ha ricordato la profonda valenza di questa data e dei valori che essa celebra per passare poi ad evidenziarne l'attualità collegandosi ai fatti più recenti dal punto di vista nazionale ed internazionale dalla situazione in afghanistan fino ai risvolti negativi delle manifestazioni delle proteste rivolte alla campagna vaccinale e alla lotta contro il covid pesaro è forgiata nella linea go è stata forgiata dalla linea gotica e quindi noi qua più che in altri paesi sappia in altre parti del paese sappiamo quanti vite sono state sacrificate per la libertà e la democrazia e la nostra storia la bellissima storia della nostra città ci deve in qualche modo far capire che anche oggi se non ci sono popolazioni che hanno la consapevolezza di resistere non si riesce ad ottenere la libertà l'abbiamo visto in afghanistan nonostante le forze alleate se non c'è una consapevolezza forte nella popolazione a resistere poi democrazia e diritti non si affermano così come abbiamo visto che il tema dell'accoglienza è altro modo un tema di grande attualità così come nel nostro territorio i cittadini delle aree interne hanno accolto le persone sfollate dalla costa da pesaro in particolar modo e oggi abbiamo un dovere nei confronti di quelle popolazioni che scappano da soprusi da guerra e da prevaricazioni e dall'altra queste migliaia di persone hanno perso la vita per la libertà e la democrazia e sentire oggi invocare la dittatura sanitaria significa non conoscere la storia un vero e proprio insulto nei confronti di coloro che sono battuti davvero per far cadere la dittatura nel nostro paese non solo perché le regole che ci siamo dati in questo anno e mezzo di pandemia sono regole decise dalla democrazia dalle istituzioni democratiche ma perché paragonare ciò che è successo durante il nazismo e il fascismo all'esigenza oggi di liberare gli italiani e il mondo da questo terribile virus davvero agghiacciante ed è appunto un insulto nei confronti di coloro che davvero si sono battuti per la libertà Parliamo ora di sanità perché gli aggiornamenti quotidiani relativi ai contagi da covid-19 riportati dal servizio sanità della regione hanno segnalato che nelle ultime 24 ore sui 2746 tamponi analizzati di cui 1523 nel percorso nuove diagnosi sono stati 172 nuovi casi positivi registrati nelle marche di questi 26 sono stati riscontrati nella provincia di pesaro urbino la situazione della terapia intensiva dell'ospedale marche nord di pesaro è stabile con 10 pazienti ricoverati sempre nelle ultime 24 ore è stato invece notificato un nuovo decesso legato al covid registrato nella provincia di ascoli piceno e ora cambiamo decisamente argomento perché dopo un anno di stop dettato dalla pandemia torna pesaro dal 10 al 12 settembre la fiera di san nicola l'organizzazione della celebre manifestazione tanto attesa dai pesaresi quest'anno ha subito delle modifiche per rispettare le disposizioni in vigore per contrastare la diffusione del covid l'accesso sarà consentito unicamente con il green pass e numerosi saranno i controlli predisposti dalle forze dell'ordine nella giornata di sabato sarà presente anche il camper per sottoporsi alla vaccinazione tutti i dettagli in questo servizio sarà all'insegna della sicurezza e della tradizione l'edizione 2021 della fiera di san nicola la manifestazione con la gestione di pesaro parcheggi torna dopo un anno di stop causato dalla pandemia dal 10 al 12 settembre l'accesso in linea con le normative nazionali sarà consentito soltanto con il green pass che sarà richiesto sia ai fruitori che agli ambulanti i controlli che saranno condotti dalle forze dell'ordine e dal personale indicato saranno effettuati a campione sia nei principali varchi d'accesso che all'interno della fiera i cittadini sprovvisti di green pass che saranno soggetti ai controlli per evitare di essere sottoposti alle sanzioni amministrative dovranno autocertificare il motivo del loro passaggio lungo il perimetro della fiera come per esempio il rientro nella propria abitazione situata nell'area di svolgimento della manifestazione o la volontà di recarsi in luoghi dove la certificazione non risulta obbligatoria in aggiunta alla certificazione verde per accedere alla fiera sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherina e il rispetto del distanziamento sociale nella giornata di sabato 11 settembre dalle 8 e 30 alle 13 e 30 e poi dalle 14 e 30 fino alle 20 sarà presente in piazzale della libertà il camper dell'area vasta 1 per effettuare le vaccinazioni anti covid anche senza prenotazione non volevamo rinunciare anche quest'anno quindi c'è stato un lavoro condiviso con pesaro parcheggi e devo dire anche con tutte le forze dell'ordine è fondamentale entrare alla fiera del di san nicola tramite il green pass e in questo modo possiamo ritornare a vivere anche la nostra vita nella normalità aiutare le attività commerciali gli ambulanti e insomma tutto il settore che riguarda comunque la vita dell'economia e quindi noi ci speriamo che sia numerosa le cittadini che che si presentano cosa anche importante abbiamo voluto mettere il giorno sabato dalla mattina alla sera ci sarà il camper vaccinale quindi ci saranno persone che potranno fare il vaccino anche senza prenotazione e insieme al presidente luca pieri abbiamo appunto pensato 24 ore prima nell'inizio della fiera di san nicola nelle farmacie aspes ci sarà un potenziamento di personale per poter fare il tampone quindi diamo la possibilità a tutti di poter entrare alla alla fiera fondamentale entrare con il green pass il controllo sarà a campione lo sarà sia nei nei varchi di accesso che all'interno della fiera ovviamente chi abita e nelle abicibili abitazioni chi va al mare deve rispettare la legge che richiama dove lo richiama anche il uso della mascherina all'interno invece della fiera l'uso della mascherina e il green pass ovviamente sono obbligatori questo perché perché dobbiamo essere in sicurezza ma appunto tornare finalmente ad una vita ridare vita alla vita qualcuno diceva qualche giorno fa e finalmente la nostra fiera 10 11 12 con 450 espositori dove troveremo ovviamente come come passare un po di tempo insieme e come fare acquisti possa essere un segnale di ripartenza per garantire le disposizioni di sicurezza previste ed evitare il più possibile il verificarsi di assembramenti l'organizzazione di alcuni spazi della manifestazione è stata modificata più contenuto il numero degli espositori anche se il numero di domande pervenute per la partecipazione all'evento è rimasto in linea con quello del 2019 saranno circa 450 le bancarelle presenti con spazi garantiti per gli oltre 370 ambulanti in possesso delle autorizzazioni decennali i punti di ristoro saranno collocati in piazzale della libertà piazzale d'annunzio e in prossimità dei giardini di via lezzara i banchi di via gorizia saranno arretrati in via paterni per consentire l'utilizzo del parcheggio gratuito di villa marina al quale si appiancheranno anche le aree di sosta pagamento del curvone e marsala attivo il servizio di navetta gratuito dalle 16 alle 23 con una corsa ogni 15 minuti che partirà dal parcheggio san decenzio e arriverà a piazza fava confermati anche i mercatini dei bambini che però potranno esporre esclusivamente nei giardini di piazzale della libertà sospesi invece spettacoli concerti ed eventi collaterali tra cui anche la cerimonia pirotecnica di chiusura cambio al vertice dei vigili del fuoco di pesaro e urbino dopo poco più di due anni l'ingegner lorenzo elia lascia la guida del comando per andare a ricoprire un prestigioso incarico a roma presso il centro operativo nazionale dei vigili del fuoco a succedergli sarà l'ingegner leonardo rampino che fino al 2018 ha ricoperto il ruolo di direttore vice dirigente del comando pesarese la cerimonia di passaggio delle consegne è avvenuta ieri nei locali della caserma di pesaro numeri in crescita per le vaccinazioni effettuate alla casa della salute di montecchio ad annunciarlo è stato il presidente dell'unione dei comuni pian del bruscolo e sindaco del comune di valle foglia palmiro ucchielli dalle 30 somministrazioni registrate nel primo giorno di apertura del lab se passate alle 135 dello scorso mercoledì numeri per i quali ucchielli ha voluto ringraziare i cittadini e il personale medico e infermieristico coinvolto e ora parliamo di eventi perché prosegue il cartellone della festa dell'unità di villa fastigi dopo le prime due giornate anche per sabato 4 e domenica 5 settembre diversi saranno gli appuntamenti in programma partendo da sabato alle 18 e 30 nel giardino del circolo arci del quartiere si terrà il dibattito dal titolo l'europa nelle marche la sfida del pnrr l'introduzione sarà cura del segretario del circolo pd di villa fastigi andrea salvatori e ad intervenire saranno i segretari provinciali cgl oriano giovanelli e roberto rossini il consigliere regionale andrea biancani e il medico vaccinatore giuseppe zuccatelli a moderare l'incontro sarà luca fabbri a detto stampa dell'agenzia dire lo spazio espositivo ospiterà invece la resistenza celebrata a cura di ampi domenica 5 invece il giardino del circolo arci di villa fastigi ospiterà il dottor gianfranco mascia che presenterà il suo libro dal titolo come usate la parola i fridays for future italia a curare l'introduzione sarà flavia magi dell'associazione upupa in un dialogo con il sindaco di pesaro matteo ricci e l'ex presidente della regione marche luca ceriscioli a moderare il dibattito sarà il giornalista raffaele vitali l'evento in programma quindi domenica alle 18 e 30 sarà trasmesso anche in diretta su rossini tv sia sul canale 633 che sulla nostra pagina facebook conto alla rovescia per brodetto fest dal 10 al 12 settembre a fano andrà in scena la diciannovesima edizione della celebre kermess dedicata alla zuppa di pesce più golosa d'italia oltre 50 gli eventi in programma tra grandi ospiti e diverse novità il servizio è di simone celli il pesce da brodetto introvabile è questo il grande risultato raggiunto lo scorso anno da brodetto fest la storica manifestazione fanese dedicata alla tradizionale zuppa di pesce si era appena rinnovata a causa del covid attraverso una formula che ha coinvolto direttamente i locali è stato un successo assoluto e quest'anno si replica in grande stile sono infatti oltre 50 gli eventi in programma al lido di fano dal 10 al 12 settembre tra bontà enogastronomiche cultura e grandi ospiti si sarà di tutto di più non solo un'esperienza gastronomica ma sarà anche un modo per incontrare degli chef stellati anche quest'anno avremo diversi chef stellati presenti al pallavrodetto un momento di cultura perché ci saranno delle presentazioni di libri del mondo della gastronomia primo fra tutti il momento di punta sarà quello con marino bartoletti giornalista che tutti conosciamo e apprezziamo e sarà al lido di fano il primo giorno a presentare un suo libro il giorno successivo ci sarà roberta capua anche in questo caso personaggio molto conosciuto questo però non vuol dire che negli anni confesercenti e il suo festival non hanno anche creduto nel modo di rapportarsi con la mondo della marineria quello di far apprezzare ai bambini il pesce dell'adriatico abbiamo sempre promosso la consapevolezza delle problematiche che ci sono che sta attraversando l'ambiente marino perciò avremo dei momenti di riflessione anche per quanto riguarda il punto di vista ecologico naturalmente poi l'invito ad aderire al fuoribrodetto successivamente dove saranno presenti tanti ristoranti del nostro territorio di tutta la provincia una diciannovesima edizione che si fonda dunque su tante certezze e su un sistema già rodato ma anche su due grandi novità sono due scommesse che abbiamo fatto quest'anno il primo fra tutti è il più importante è quello di promuovere definitivamente la bevanda tipica del nostro della nostra città che è la moretta avremo uno spazio al Lido dedicato alla moretta che si chiamerà Meat Moretta e al quale sarà affiancato da una competizione sull'utilizzo della moretta anche in diversi cocktail perciò avremo al Lido i migliori barman italiani hanno già aderito tutti i migliori barman nazionali che si contenderanno la miglior moretta tra virgolette perché poi alla fine sarà una qualsiasi piatto o bevanda a base di moretta e questo sarà il lancio definitivo di quella bevanda che tutti apprezziamo e che è identificativa della nostra città l'altra grande novità sulla quale scommettiamo tanto e abbiamo puntato tanto negli ultimi tempi è proprio quella di fare anche una pizza una pizza con il pesce dell'Adriatico finora non era stato possibile ma grazie a un pizzaiolo di Fano abbiamo sperimentato una formula che sembra molto gustosa molto buona nei tre giorni del festival avremo anche questa novità sperando come abbiamo già fatto per il piatto per il piatto della marineria che nei prossimi anni la pizza con brodetto sia presente nei menù delle pizzerie fanesi. Un evento cruciale dunque per la città della fortuna e per la sua insaziabile voglia di turismo perché è quando gli ombrelloni stanno quasi per chiudersi che i riflettori di Brodetto Fest si accendono. Dal 10 al 12 settembre arriva Brodetto Fest un'importante manifestazione per noi perché arrivi in un momento dove si chiude la stagione balneare e dove ovviamente i turisti che arrivano devono vivere a pieno il nostro territorio nelle sue bellezze ma anche nelle sue bontà quindi la valorizzazione gastronomica che porta al Brodetto non soltanto con il Brodetto ma con un punto di vista sul bianchello sulla moretta sul nuovo prodotto che è questa pizza che si lega con il Brodetto quindi fa sì che in quelle giornate si possano scoprire a pieno le nostre tradizioni enogastronomiche quindi vi aspettiamo ovviamente tutti al Brodetto dove potrete assaggiarlo nei ristoranti della nostra città in questo nuovo format che arriva nel periodo della pandemia che è partito dallo scorso anno e che fa funzionare in modo particolare la manifestazione ecco circa 30 ristoranti con tutte le loro peculiarità e la loro forma nel realizzare il Brodetto in cui potrete assaggiare ecco questa nostra prelibatezza locale. Il Brodetto Festival è senz'altro un evento che caratterizza la nostra regione mette insieme i prodotti del nostro mare con una cultura tradizionale enogastronomica che ci rappresenta in modo identitario molto forte quindi dobbiamo sostenere questo evento fare in modo che diventi sempre di più non solo un'opportunità di conoscenza e di pubblicità ma dobbiamo anche farlo diventare un evento di accoglienza fare in modo che la gente venga attratta da questa esperienza che in qualche modo allunga un po' la stagione turistica e diventa un modo per conoscere meglio le marche che hanno tante qualità tanti prodotti e il Brodetto è senz'altro uno dei migliori. Ed è fissata per l'11 settembre la serata di inaugurazione della rinnovata Villa San Giuliano gioiello incastonato alle pendici del parco San Bartolo e fatto costruire a partire dagli inizi degli anni 30 dal maestro Zandonai compositore e direttore d'orchestra noto a livello internazionale e direttore del conservatorio Rossini dal 1940 al 1944. La serata sarà anche l'occasione per illustrare il progetto ideato dalla fondazione Villa San Giuliano Zandonai e dal conservatorio Rossini per riportare in auge le opere del maestro. Tutto nasce un anno e mezzo fa circa quando il dottor Michele Dorazio e l'avvocatessa Giovanna Giuliani proprietari da poco di questa villa da qualche anno di la verità ma i lavori erano in fase di restauro la lilla era in fase di restauro. Mi hanno chiesto Franco che facciamo per rilanciare la figura del maestro e per dare smalto a ciò che ha fatto e che ormai purtroppo a Pesaro se lo sono completamente dimenticato? Bella domanda. È stato allievo del conservatorio Rossini all'inizio del novecento il maestro Zandonai poi è stato anche direttore per riportare in auge la figura del maestro dico istituiamo un premio allora loro fanno una fondazione con il commercialista Cappellini e decidono di sotto con il mio consiglio di istituire un premio di studio per l'Accademia di Canto del conservatorio Rossini. D'accordo con il maestro e il direttore Fabio Masini che si è detto subito entusiasta di questa iniziativa abbiamo dato vita a questa cosa. Il conservatorio è ben lieto di partecipare a questo impegno a questa iniziativa perché è un impegno volto a guardare al futuro e al tempo stesso a rivalutare le nostre giovani promesse in questo caso la prima borsa di studio che la fondazione ha messo a disposizione è legata al mondo del canto quindi la vincitrice questa cantante soprano Elisabetta Shuvalova che studia canto qui al conservatorio di Pesaro ha vinto interpretando un'aria tratta dall'opera i cavalieri di Echebu di Zandonai. Il concorso prevedeva l'esecuzione di un'aria tratta dal repertore Zandonai e di un'aria a loro piacimento. Nell'occasione appunto della premiazione verrà mandato il video di questa performance della vincitrice. L'11 di settembre avremo il piacere di inaugurare questa villa completamente restaurata sotto la tutela della soprintendenza di Ancona, anzi sarà presente la soprintendente, verranno da Rovereto tutto lo staff dirigenziale del centro studio di Zandonai di Rovereto, il vice sindaco di Rovereto come dicevo e quindi avremo tutti quelli che sono del conservatorio che hanno un ruolo importante insieme al conservatorio, tutto lo staff dirigenziale. Avremo anche l'onore e il piacere di avere il vescovo Monsignor Coccia che verrà al momento del taglio del nastro fornire anche la benedizione. Il principio era quello di aiutare a diffondere e a ridare lustro alla figura di Zandonai, speriamo che un po' la città ci aiuti, che ci aiuti anche la stampa fra l'altro e speriamo di riuscire in questo intento. Siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa che possa dare diciamo così lustro al maestro. E prosegue il cartellone di appuntamenti all'Arena BCC di Fano dove domenica sera alle 21.15 andrà in scena l'ultima replica estiva di Sapore di Sale Grosso, spettacolo comico del San Costanzo Show. Quest'anno 30 luglio presentiamo un nuovo spettacolo, una nuova produzione che si chiama Sapore di Sale Grosso. Sapore di Sale Grosso. Lei lo dice meglio. Io lo posso anche cantare. Sapore di Sale Grosso. E quindi sul palco tutta la compagnia, lei è la prima donna, nonché l'unica. Rimani qua che facciamo tipo corretto. Esatto. Sei troppo vicino. No, volevo dire che la compagnia consta di circa 1500 elementi che oggi ai meno sono potuti venire, siamo noi in rappresentanza di tutti i 1500. Siamo sette, vorremmo essere una produzione bollywoodiana ma siamo solo sette. Allora, la regia di Paola Galassi e di me. Anche perché, permettetemi di dirlo, qualcuno l'avete perso per strada. Sì, eravamo all'inizio, eh vabbè, allora vogliamo dire anche chi c'è, non lo diciamo. Non lo diciamo. Potrei dirlo ma non lo dico. Ma c'è qualcun altro che ci siamo persi per strada, cioè lui era un attore, ha cambiato mestiere, però vogliamo fargli fare l'ultimo saluto. Prego Davide, vieni a salutare il pubblico, il tuo pubblico, ecco. Ecco, è diventato un apicoltore, bravissimo. Quante arnie c'hai? Anche perché guarda che la mascherina mi sembra un po' diversa da quelle che si usano di soli. Esatto. Perché le mie sono api differenti. Eh, come la banca, come la banca. Comunque 3 settembre sarete in scena, chiuderete la rassegna. 30 luglio e 5 settembre. Volevo dire che l'abbiamo cacciato la San Costanzo Show perché sbagliava sempre le date, infatti abbiamo detto oggi sì, domani basta, ho detto basta, chiudiamo perché sbagliava sempre, non si presentava mai, lo spettacolo era il 7, l'8, arrivava il 10, il 20, capito? Però per la rassegna stampa è ottimo. Grazie davvero ragazzi. Grazie a voi. Ciao a tutti, Sapore di Sale grosso, 30 luglio e 5 settembre. Apriamo ora la pagina sportiva del nostro telegiornale perché si è svolta questo pomeriggio presso la sala del Consiglio Comunale di Pesaro, la conferenza stampa di presentazione di Tyreek Jones, nuovo centro della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Le interviste sono a cura di Marco Cadeddu. Penso che sia la migliore decisione che potessi prendere, sono contentissimo di far parte di questo club che è un'ottima organizzazione, quindi bene così. Sì, conosco a Samadji, siamo giocati nella stessa scuola, non abbiamo giocato qui insieme. Mi ha detto che è stata una buona esperienza qui in Italia, e ho fatto questo e ho riuscito con questo, e come ho detto, penso che adesso, per qui sono e per il mio sviluppo, è la migliore cosa per me. Sì, conoscevo bene Samadji perché siamo stati insieme, abbiamo giocato insieme al college, mi ha detto sicuramente, mi ha spinto a firmare per Pesaro, e mi ha detto che sarebbe stata, se fossi venuto qui, sarebbe stata sicuramente un'opportunità molto importante per me per crescere ancora e per fare del mio meglio. Per ottenere tantissimi giocatori come possibile, come ho detto, per essere migliore ogni giorno con la squadra, e solo, per quanto riguarda tutti i nostri spazi, e mi sento che abbiamo niente in fronte di noi da fare, oltre che solo per crescere meglio. Penso che se facciamo questo, potremo arrivare a Europa. La risposta è semplice, ma al tempo stesso importante, cioè sicuramente il mio obiettivo è quello di vincere le più partite possibili, di trovarci bene come team, come squadra, e quindi sicuramente dare tutto a noi stessi e far divertire anche i tifosi. Come ho detto, era di sicuro la scelta più importante, la scelta decisa in tempi non sospetti. Poi chiaramente lui ha giocato, fra le altre cose, la Summer League molto bene, quindi è andato su tutti i tacquini NBA e lì pensavamo di non riuscirci più. Le ultime ore, direi, che noi stavamo andando su un altro, si è reso disponibile, o meglio, quantomeno ha detto ok, voglio fare l'esperienza europea e a quel punto siamo intervenuti con una offerta che non poteva rinunciare. La squadra è completamente ancora incompleta, perché manca lui, perché Moretti non è ancora al 100%, quindi la strada è lunghissima, ovviamente fa molto, molto piacere vincere, battere anche avversari prestigiosi, e quindi siamo molto felici, ma da qui a dire che di sicuro possiamo dire, come ha detto Luciano, abbiamo speso molto. Venite al Palazzo, abbonatevi, per due motivi, uno perché altrimenti non riuscirete a vedere la squadra, perché speriamo di fare sold out con gli abbonamenti, e quindi chi non sa buona credo che faccia fatica, credo e spero che faccia fatica a vedere la spartita, e due perché ci state vicini, abbiamo bisogno dopo un anno veramente, veramente difficile per tutti i motivi che ben conosciamo. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo però la programmazione che continua su Rossini TV, a partire da questa sera alle 21.15 con lo speciale dedicato alla conferenza La gente nuova e i subiti guadagni, Dante sociologo e scienziato politico, a cura del professor Fabrizio Battistelli, presidente dell'Entolivieri. L'evento si è tenuto nella suggestiva cornice del cortile della Biblioteca Oliveriana lo scorso primo settembre, ed è stata un'importante occasione per approfondire il grande contributo sulla riflessione politica e sociologica offerta dal sommo poeta. Ad impreziosire la conferenza anche le letture a cura di Lucia Ferrati e gli intramezzi musicali di Enea Sorini e di Peppe Frana. Appuntamento quindi questa sera in prima serata su Rossini TV alle 21.15. L'informazione torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini, alla conduzione ci sarà Marco Cadeddu. E poi domani nelle repliche del pomeriggio potrete seguire la lettura e il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio, sabato quindi in mattinata alle 10.30 e poi alle 16, oppure domenica in mattinata prima alle 8 e poi alle 11. Sabato alle ore 19 un nuovo appuntamento con Wine & Luxury, il programma di Rossini TV che nell'edizione appunto di sabato alle 19 potrete seguire anche in diretta sulla nostra pagina Facebook oppure potrete rivedere nelle repliche indicate anche nel cartellone domenica alle 13.30 alle 21, lunedì alle 14.30 e martedì alle 22.00. Infine vi ricordiamo che domenica saremo in diretta a partire dalle ore 18.30 sia sul canale 633 che live sulla nostra pagina Facebook per seguire un appuntamento della Festa dell'Unità di Villa Fastigi edizione 2021. L'evento è appunto la presentazione del libro del dottor Gianfranco Mascia dal titolo Come usate, la parola ai Fridays for Future Italia. Seguiremo quindi questa presentazione con il relativo dibattito che seguirà domenica alle 18.30 in diretta su Rossini TV e sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale e un buon proseguimento di serata su Rossini TV.